vi aspetto tutti al festival di asuni e di sola russa terre di confine film festival è un festival a cui ritorno molto volentieri ci sarò col mio film con la cabadora col mio ultimo film faremo tra l'altro un dibattito sul tema della formazione per il cinema in sardegna un dibattito che mi coinvolge molto che sento molto importante anche perché in questi ultimi anni ho insegnato in questi corsi e ha avuto la possibilità di vedere crescere una generazione di giovani che sono pronti per il futuro nel cinema